Una data fondamentale nella storia di Monte Cassino e la sua fondazione San Benedetto nel 529 fonda l'abbazia sull'acropoli che appunto sorgeva ai vertici di questo monte e utilizza gli spazi di un tempio pagano dedicato ad Apollo per costruire la prima chiesa dedicata a San Martino. Purtroppo pochi decenni dopo la fondazione del monastero l'abbazia subisce la sua prima distruzione nel 577 quindi 30 anni dopo la morte di San Benedetto. Il duca beneventano Longobardo Zottone con una truppa appunto di soldati, di militi distrugge l'abbazia e la comunità è costretta all'esilio a Roma. Nel 718-719 il Bresciano Petronace viene inviato dal Papa Gregorio II a rifondare Monte Cassino e da questo momento l'impulso che viene dato da Petronace avrà una espansione notevolissima e Monte Cassino vede nascere e rinascere la comunità e con essa tutte le attività legate appunto alla vita della comunità e in particolare anche quella dello scriptorium. E nello scriptorium vengono prodotti alcuni manoscritti che possediamo ancora oggi e che sono fondamentali per la storia non solo della biblioteca e della cultura cassinese ma anche in particolare per la storia della scrittura beneventana. A Monte Cassino è presente il più antico manoscritto in scrittura beneventana che è il codice 753 che contiene le sentenze di Isidoro di Siviglia quindi una sorta di commento ai principali passi della scrittura e che come vediamo è appunto in una scrittura beneventana degli inizi che si va via via canonizzando e poi un testo astronomico il Libellus de Signis Cieli dello Pseudo Beta corredato da 40 stupendi disegni di costellazioni come possiamo vedere nei quali emerge tutto il patrimonio formale della cultura antica che evidentemente a Monte Cassino era ancora molto vivo. Il secolo d'oro della storia di Monte Cassino è certamente il secolo undicesimo e Desiderio è certamente il soggetto fondamentale il più grande abate di Monte Cassino del Medioevo in particolare sarà Papa col nome di Vittore III succedendo a Gregorio VII e di questo periodo abbiamo un codice molto importante che è il codice 99 dove sulla prima pagina sul frontespizio vediamo questa splendida immagine di Dedica l'abate Desiderio col nimbo rettangolare che gli circonda il capo presenta il monaco Giovanni alla sua sinistra che ha in mano il manoscritto stesso quel manoscritto che il monaco Giovanni che sta per entrare a Monte Cassino offre a San Benedetto che vediamo appunto sulla destra e ai piedi di San Benedetto è il giovane Leone Leone Marsicano autore della cronaca di Monte Cassino il quale in quel momento è il giovane responsabile sovrintendente allo scriptorium alla biblioteca e all'archivio di Monte Cassino e fatto significativo ha in mano un drappo con il quale sta per accogliere quasi con venerazione quel manoscritto che poi appunto involgerà nel drappo stesso e terrà in serbo come dono appunto al padre e fondatore di Monte Cassino Benedetto grazie a tutti